E' durata quasi otto ore l'attesa assemblea straordinaria dei soci del Monte dei Paschi di Siena. Unico punto all'ordine del giorno, il voto per la delega al Consiglio per aumentare di quasi 4 miliardi il capitale nei prossimi cinque anni. Una misura garanzia dello Stato che si è impegnato a sottoscrivere i cosiddetti Monti Bond. Nonostante molti interventi critici nei confronti della gestione della terza banca italiana, il 98% dei presenti ha votato a favore degli aiuti di Stato. Se questa banca, anziché prestargli soldi allo Stato, lo Stato aumenti il capitale e ne diventa proprietario, noi riusciremo a utilizzare questa banca finalmente per fare il collettore delle somme disponibili dalla BCE e riaprire il mercato del credito a dei tassi onesti. Gli azionisti a più riprese hanno messo sotto accusa la gestione del duo Mussari-Vigni, indagati per l'acquisizione di Anton Veneta del 2007, che è costata alla banca 9 miliardi di euro. E in molti si sono chiesti se questo scandalo sia colpa della politica o della finanza, o se ancora sia da mettere in discussione un modello di banca in cui il principale azionista è una fondazione che detiene il 35% del capitale e dove 13 consiglieri su 16 sono eletti da comune e provincia. Io la nazionalizzo, la chiudo, prendo i responsabili, prendo i soldi, li rimetto dentro, perché i soldi sono da qualche parte. Faccio così. Purtroppo, con rammarico, devo dire che quello che ho detto per 5 anni in Consiglio Comunale, parlando di numeri e parlando di bilanci, purtroppo si è verificato.